Circa 200 lavoratori a spasso e prenotazioni respinte con strutture alberghiere ricettive svuotate che mettono in ginocchio l'economia di un intero paese. Così a Caramanico dove la situazione di stallo delle terme è ben lungi da una ritrovata soluzione. La riapertura del centro termale alle falde della Maiella è ancora lontana con la società concessionaria in liquidazione che chiede alla regione di aumentare il ventaglio delle prestazioni erogate in convenzione con il sistema sanitario nazionale, la regione che per bocca dell'assessore alla sanità Nicoletta Veri fa sapere che i fondi messi a disposizione per la riapertura del centro sono già stati deliberati e i lavoratori che in questo limbo di incertezze fremono per il futuro più che mai nebuloso che intravedono all'orizzonte dicendosi pronti alla mobilitazione come fa sapere Alessandra Di Simone della Filcams CGL di Pescara. I lavoratori fino adesso hanno atteso risposte dalla società piuttosto che dalla regione in attesa che questo impianto riaprisse. Fino a un mese fa qualcuno diceva che avrebbe riaperto quindi diciamo che loro, io ieri li ho visti, li ho incontrati per la prima volta diciamo tutti insieme, sono molto delusi, amareggiati ovviamente perché per loro quella è l'unica risorsa, per alcuni addirittura è l'unica risorsa economica. Per loro le terme di Caramanico sono il paese e la loro casa. Ovviamente sono molto preoccupati perché a questo punto cominciamo a intravedere l'impossibilità della riapertura dell'impianto perché abbiamo sentito ieri la società che continua a dire che senza la riabilitazione non riapre. Abbiamo letto questa mattina la conferma dell'assessore Veri che dice che non è possibile fare un affidamento sulla riabilitazione come dire in tempi brevissimi quindi questo ci fa prefigurare l'impossibilità di riapertura. Siamo molto preoccupati perché lì oltre ai lavoratori ovviamente ci sono anche piccoli imprenditori che vivono di quel lavoro quindi siamo molto preoccupati perché quello è un territorio che rischia così di scomparire. In questa fase noi pensiamo che è l'unica cosa che sia necessaria intanto chiarezza perché il balletto la responsabilità in Miano è tua non aiuta sicuramente non aiuta i lavoratori sicuramente non aiuta Caramanico. Pretenderemo dalla regione ovviamente un incontro nel più breve tempo possibile perché la società deve dirci effettivamente qual è la sua prospettiva. Se non è più in grado di gestire le terme di Caramanico dovrà fare necessariamente un passo indietro e chiederemo ovviamente alla regione di inventarsi una soluzione anche tampone che possa in qualche maniera garantire almeno la fine della stagione per poi ovviamente rilanciare il termalismo in Abruzzo che ripetiamo lì rischiamo che il termalismo in Abruzzo si perda definitivamente.